Tutto pronto al Siena per lo sbarco di Ronaldo che il presidente Lombardi Stronati ha deciso di ingaggiare a Gettone. Ronaldo ha preteso un pagamento in natura e per questo si è costituito un pool di aziende in grado di soddisfare le sue esigenze. Le aziende sono Maiala Moremio di Uguccioni Walter, una salumeria di Poggi Bonzi, la rosticceria Mondo Lasagna di Monterigioni e la pasticceria Quanto è Bello il Ricciarello di Piazza del Campo. In onore del campione brasiliano inoltre la Torre del Mangia cambierà il nome in Torre di Ronaldo. Romolo Remi, Sky Sport 24, Isola d'Elba.